Perché? Dormi con la bocca aperta. Come lo sai? Ti guardo. Mentre dormi. Sì. Ti guardo? Mi spegni la luce. Non posso spegnere la luce. Devo leggere le peghierie. Non le so a memoria. Le so a memoria. Non le so a memoria. Non le so a memoria. Guarda i santini. Guarda i giorni. E che guardo di notte? Niente, dormi. Come faccio a dormire se tu russi? Com'è il tempo? C'è il sole. No. C'è il sole. Ma che si piove? Se c'è il sole come piove? Non è anche quando c'è il sole. Non c'è se piove. Quella è il giornale di ieri. Ieri abbiamo avuto. Sto leggendo la televisione. Non piove. Non piove. Se leggi giornali di dieta, non saprai mai le notizie del giorno il giorno dopo. Se leggi il giornale di ieri, non saprai mai le notizie del giorno il giorno dopo. E che te ne fai delle notizie del giorno il giorno dopo? Che faccio delle notizie del giorno se sono fagliato? Meglio le leggere il giorno dopo. Vuoi il latte? E' scaduto. E' scaduto. Non è scaduto. Vado al supermercato tutti i giorni per comprare latte fresco. E' da un mese che non paghiamo alla latterina. E' da un mese che non paghiamo alla latterina. Non c'è più quella della latterina. Ora non c'è più. Suo merito non la fa più stare alla latterina. Bene. Lo so io cos'era quella della latterina. Bene. Dio e due o 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 la valito la valito non dica quando si spella non dica quando lo sattori chi sta a ferro? tieni lo zucchero l'ho messo lo zucchero lo zucchero l'ho messo lo zucchero giro giro brucia non brucia non brucia non brucia vanno è troppo dolce tu mi hai detto di mettere il silenzio troppo mettendo la sede non brucia 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 non brucia lo ha assaggiato prima non brucia ti facciamo lo zucchero passaggio e assaggalo non brucia vanno è amato Tu mi hai detto di mettere più caffè? Sotto, come la cosa? Giro! Non gira, non cos'è la spetta! Dov'è? Porto il tappo qui. Potrebbe venire giù all'improvviso. Ne è venuta giù tanto. Siamo pieni, siamo completamente pieni. Si sta allargando troppo, sempre di più. Sembra mare. Ma non è mare. Con le barche potrebbe sentire mare. Ma non è mare. Non si può sentire mare. Se riuscisse a diventare mare. Ma non vuole diventare mare. Nemmeno con le barche. Nemmeno con le barche. Chiudiamo. Ma qualcuno ha trovato? Cosa? Farla diventare mare. Non lo so se qualcuno l'ha provato. Ma qualcuno l'ha provato. Ma qualcuno l'ha provato. E se ha provato noi, farla diventare mare. Non possiamo farla diventare mare. E questa ammetta, noi non possiamo farla diventare mare. Padre. 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 Tu puoi farla diventare mare. Questa ammetta padre. Tu puoi farla diventare mare. Perché noi non vogliamo più respirare in merda. Non vogliamo più rinunci di ammetta padre. Padre. Liberaci tra il merda. Liberaci fino dalla merda. Ma sai che tu non ci può più liberare. Se anche tu non ci puoi più liberare. Mangaci qualcuno. Mangaci qualcuno che ci possa liberare. Padre. Padre. C'è qualcuno che ci può liberare. C'è qualcuno che ci può liberare. C'è qualcuno che ci può liberare. Non c'è più nessuno che ci vuole liberare. Ci dobbiamo liberare da solo. Anche oggi siamo soli. Non siamo soli. Non siamo soli. Arriva una banda. Sta arrivando una banda. Che bomba si? Noi non siamo una banda. Io e lui non soliamo per una banda. E perché sonate? Per entrare. Io e lui, sogniamo solo per entrare. Ed entrate sempre così? No. Noi non entriamo mai allo stesso modo. Noi non abbiamo mai lo stesso entanto. Non avete mai per la fissa? Non ci date mai l'unica da fissa. Non ci vogliono mai fare questa cosa. Noi certe volte entriamo da destra, altre volte da soglistro, qualche volta entriamo dal cielo. Noi entriamo da dove c'è? Non lo credo a te. Perché c'è sempre tutto detto quando noi entriamo. Noi non riusciamo mai ad entrare facilmente. Allora ci creiamo tanti problemi per entrare. Ma quando superiamo i problemi e riusciamo ad entrare, poi c'è sempre qualcuno che ci fa di non riuscire. Perché? Perché non tutti sono contenti quando noi entriamo. Molti quando noi entriamo. gli facciamo schifo. E stanno convincendo tanta gente ad avere schifo di loro. Ma noi non entriamo per fare schifo alla gente. Noi entriamo perché abbiamo bisogno. Abbiamo tanto bisogno di entrare. E per il nostro bisogno di entrare, ci accontentiamo anche di una misericordia. Ma non è facile vivere con una misericordia. Per poter vivere con una misericordia. Sapete cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Musica. Dobbiamo fare tanta musica. Con il Zambù. E anche con il Torno. Musica. Grazie a tutti.